A riguardarle adesso tutte quelle foto, adesso che il mondo sia lentamente, seppur ancora con qualche apprezzione rimesso in moto, si ha ancora di più l'impressione di un lavoro di grande passione. Il fotografo e anche un po' psicologo, spiega Antonella Pizzamiglio, ed è stata lei, assieme alla collega di sempre Barbara Sereni e ad Arte Studio, a presentare il primo regalo concreto giunto da ripartenza, il volume presentato la scorsa primavera che associa foto di commercianti con la mascherina affiancate da scatti degli stessi commercianti in tenuta da lavoro e finalmente sorridenti, finalmente in ripartenza. I primi 1000 euro frutto dei proventi della vendita del libro sono stati consegnati ad Annise Grandi dell'associazione MIA Movimento Incontro Ascolto, che da sempre è lotta contro la violenza sulle donne. Abbiamo passato un anno dove non ci potevamo vedere, dove non potevamo entrare nei negozi, dove non potevamo fare niente e a novembre dell'anno scorso in un mio sogno, parlando con Barbara, abbiamo deciso di fare questo libro. Questo libro perché? Perché volevamo incontrarci, rincontrarci e poterci passare delle emozioni, ma tutto questo era anche per dire andiamo ad evolvere se riusciamo qualcosa a chi sicuramente ha sofferto più di noi. La vendita del libro avevamo dichiarato che sarebbe andata in beneficenza, ne abbiamo venduti e facciamo la prima beneficenza appunto all'associazione MIA. Perché abbiamo scelto loro? Innanzitutto ve lo dico subito, perché l'idea è partita da delle donne e abbiamo anche degli uomini, ma dalle donne vogliamo partire con le donne. E quindi abbiamo creduto in questa cosa, ma vi chiediamo di continuare a credere e vorremmo venderli tutti perché il ricavato sarebbe enorme. Alla conferenza c'erano tutti i protagonisti del libro che è sì prettamente fotografico, ma contiene anche pensieri e scritti di diversi artisti di Casal Maggiore. Per il comune era presente l'assessore ai lavori pubblici Linda Baroni.